Prima vittoria del 2022 per la biellese. L'impegno casalingo con il Verbania, terzo ultimo in difficoltà, prevedeva una sola opzione, la vittoria. Vittoria che è arrivata ma non sul velluto. Il primo tempo si era chiuso ad armi pari. Biellese che si è costruita delle buone occasioni, un bel sinistro di Panatti, un gol divorato da scienza a tu per tu con Chiodi. L'atta che non è riuscito a trovare la conclusione buona. Il Verbania, soprattutto dopo l'ingresso dell'ottimo Cerutti, ha dato comunque l'impressione di poter far male ai Lanieri, guidati ieri da Mr. Pellerei dopo i quattro turni inflitti a Rizzo per le proteste di Borgaro. La differenza si è concretizzata tutta nei primi 15 minuti della ripresa. La biellese parte a razzo e il Verbania non rientra dagli spogliatoi. L'atta sciupa una grande occasione e scienza sulla ribattuta prende un giallo per simulazione. Pochi secondi dopo è sempre scienza a girare in rete una palla vagante in area. Secondo gol consecutivo in casa per il figlio d'arte e dedica speciale verso la tribuna. Il Verbania si scuote. Rainero non può concedersi la minima disattenzione e gli ospiti si presentano varie volte nell'area della biellese, sfruttando sia i cross che le incursioni del solito Cerutti. Alla fine però i cambi fanno la differenza e spezzano la partita. Mastai mette pressione alla difesa nerocerchiata, Artiglia sfonda sulla sinistra e mette dentro un pallone che Naamad, a pochi secondi dal novantesimo, appoggia in rete per il 2-0 definitivo. Esultanza collettiva verso il mister, costretto a guardare dall'esterno e contestato da parte del pubblico. Lo Stresa rimane a più 5 ma la vittoria è una boccata d'aria fresca. Qui con mister Martin Pellerei, sostituto allenatore per questa partita, probabilmente anche per qualcuna delle prossime. Una partita vinta, sorviva dopo un periodo complicato però sofferta fino alla fine. Sì, assolutamente. Dicevo, secondo me non è stata forse la migliore dal punto di vista tecnico, però serviva una vittoria di morale che desse morale e di gruppo che facesse vedere che il gruppo squadra c'è, è presente e ha voglia di lottare fino alla fine. Adesso i risultati li abbiamo visti tutti delle altre squadre, però noi non mogliamo assolutamente e continuiamo così. Il mister ha chiesto una vittoria di squadra ed è stata fatta. Qual è stata la chiave? La chiave è il gruppo, assolutamente. Questo è un gruppo sano di bravi ragazzi. Io li vivo magari settimanalmente, magari dall'esterno, però vedo sempre che c'è un gruppo compatto, si allenano tutti ai 200 all'ora e questo può esserci magari più qualità e meno qualità. A volte si gioca bene e si perdono le partite, come è già successo. Oggi serviva questa vittoria che desse morale ed è stata conquistata con, secondo me, il gruppo. Una prima squadra che è fatta di tanti elementi giovani della Juniores. L'asse con settore giovanile, prima squadra, è forte? Ma sì, assolutamente. Io, devo essere sincero, ho buonissimi giocatori, ho giocatori che potrebbero venire su e aggregarsi tranquillamente perché allenarsi con quelli bravi si diventa bravi e quindi in prospettiva futura io sono ottimista, assolutamente. E se possiamo dare una mano alla prima squadra per ottenere un obiettivo comune, ben venga. Qui con Edoardo Ortiglia è entrato partita in corso, un assist, importante per una vittoria che è una boccata d'ossigeno che fa veramente morale. Sì, dopo l'ultimo periodo, che comunque stavamo facendo bene, però i risultati non arrivavano, abbiamo trovato questa vittoria che per noi è fondamentale, visto anche il cammino dello Stresa e adesso dobbiamo tenere questo rollino di marcia. Cosa serve per arrivare fino in fondo a recuperare quei due punti barra cinque? Eh, serve voglia di far bene come stiamo facendo, serve continuità e un piccolo pizzico di fortuna, come sempre. Difficile oggi senza Mr. Rizzo, però visto che alla fine siete andati a esultare vicino a lui. Sì, no, per noi è una gran perdita perché comunque dalla panchina ci aiuta sempre, però sappiamo quello che dobbiamo fare e ascoltiamo lui come sempre.